Le restrizioni vengono allentate eppure i contagi anche in Abruzzo non stanno diminuendo. Un rischio calcolato hanno spiegato gli esperti, attenuato da chi si è vaccinato con tre dosi da anziani e fragili che si stanno sottoponendo alla quarta. Tutto questo in attesa dei prossimi mesi in cui sarà più chiaro se il richiamo sarà esteso a tutti. Intanto per un'Italia è stato isolato il sottolineaggio della variante Omicron. Per questo motivo nella nostra regione è partita la caccia tra i tamponi delle varianti anche da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo Molise Caporale. L'obiettivo è quello di scovare soprattutto Omicron 4 e Omicron 5 che potrebbero far scoppiare nuove ondate nelle prossime settimane. Noi abbiamo recentemente finito la nostra attività di screening dei tamponi ma continuiamo necessariamente a cercare le varianti, cioè a sequenziare i tamponi che vengono positivi al Covid. Questo permette immediatamente di identificare le nuove varianti che circolano. In realtà le nuove varianti Omicron 4 e Omicron 5 possono essere riconosciute anche prima del sequenziamento grazie alla PCR che noi abbiamo perché è in grado di rilevare una mutazione che permette di identificarla in maniera, si dice proxy in termini tecnico, comunque di fare un forte sospetto di variante nuova. Queste varianti nuove e queste varianti che si definiscono Omicron 4 e Omicron 5 sono delle sottovarianti della variante Omicron, parliamoci chiaro, nulla di nuovo, nel senso che queste varianti, così come è successo in passato per le altre varianti, hanno delle capacità di trasmissione, di trasmissibilità più spiccate rispetto alla variante precedente. Questo che significa che queste varianti potrebbero soppiantare, superare in termini di numero la variante che la precede. Questo è già successo in passato con le variante Alpha, con la variante Delta, con la variante Omicron. E' successo con la variante Omicron 2 che ha praticamente scalzato dal podio la variante Omicron 1. Potrebbe succedere anche con queste. Quindi purtroppo dobbiamo convivere con il virus. L'abbiamo sempre detto dall'inizio della pandemia che a un certo punto avremmo dovuto convivere con il virus. E' esattamente quello che stiamo facendo ora. Convivere con il virus che significa che all'insorgenza di sintomi respiratori bisogna necessariamente effettuare il tampone e starsi a casa comunque perché non è che gli altri virus non causino nulla. Quindi quello che dico è attenzione, buonsenso, ma soprattutto continuiamo a fare come stiamo facendo grazie alla rete dei laboratori impegnati nel Covid a sequenziare e identificare quanto prima le nuove varianti perché non abbiamo una sfera di cristallo, nessuno si erge a Sibilla Cumana. Non sappiamo quello che succede. L'unico modo per scoprire quello che succede è sorvegliare in real time, sorvegliare col sequenziamento quello che circola nei nostri tamponi. Grazie. Grazie.